amici di dday oggi ci occupiamo del nuovo top di gamma di huawei l'ashend p7 presentato qualche settimana fa a parigi in anteprima è stato appunto il nuovo top di gamma per huawei con caratteristiche molto interessanti a cominciare dal prezzo visto che si posiziona in italia a un prezzo destino di 399 euro ma con caratteristiche da top di gamma tranne alcuni elementi che sono andremo a vedere nel dettaglio partiamo innanzitutto dal design perché la caratteristica principale di questo smartphone specie per la fascia di prezzo a cui appartiene è appunto il design strato di un oggetto veramente ben costruito con la qualità dei materiali e della cura nella costruzione veramente insolita per questa fascia di prezzo al dire vero purtroppo spesso anche su prezzi inferiori non riusciamo a trovare questa stessa qualità stiamo parlando di un dispositivo che non abbiamo paura di dire che non ha niente da invidiare a prodotti come l'htc1 m8 per qualità della costruzione certo abbiamo più plastica sul frontale e sul retro in realtà che è costruito da una specie di vetro costituito da sette strati che praticamente permettono di avere oltre che vabbè la rigidità necessaria per consentire una buona robustezza dispositivo anche un interessante effetto tra virgolette 3d per cui in realtà non sappiamo bene se dal video si vede bene ma dalle immagini sicuramente che trovate sul nostro sito ha una strano micro pattern che appunto dà un po' di profondità a questo a questa parte posteriore del dispositivo vediamo il bordo invece metallico simile all'uminio che in realtà integra due antenne ce n'è una sotto e una sopra e questo per migliorare la ricezione di Huawei dichiara di 2db rispetto a una configurazione mono antenna che sicuramente aiuta specie con il 4g altra caristica essenziale nonostante stato un display cioè di un smartphone molto sottile appena 6,5 mm si tratta di un dispositivo molto leggero e nonostante questo dotato di un bel display da 5 pollici con risoluzione full hd quindi insomma come i migliori top di gamma degli altri costruttori andiamo a sbloccare lo schermo per vedere l'interfaccia si tratta naturalmente di uno smartphone basato su android ma con una interfaccia proprietaria di Huawei che chiama Emotional UI cioè UI scusate cioè user interface che cambia un po' quelle che sono i canonici diciamo i paradigmi classici di android l'homescreen principale sembra la solita con le quattro scorciatoie nella parte in basso e ovviamente la possibilità di installare widget sulla home screen però in realtà se andiamo a vedere l'altra home screen vediamo che abbiamo tutte le con le applicazioni quasi fosse un dispositivo ios qui vediamo proprio come abbiamo le quattro scorciatoie in basso i pallini che ci permettono di passare da una home screen all'altra appunto tutte le applicazioni questo perché non abbiamo il classico cassetto delle applicazioni che troviamo normalmente su android comunque un'interfaccia che abbastanza piacevole se non fosse per il fatto che insomma la grafica come vediamo delle cartelle non è esattamente in linea secondo noi con il resto del tema grafico ed espositivo in ogni caso è possibile scegliere altri temi grafici da questo menu in cui poi potremo andare anche installare in futuro infatti vediamo locale online veramente centinaia di temi realizzati non solo da huawei ma anche dagli utenti huawei ha messo l'accento soprattutto sulla fotocamera di questo smartphone non in realtà quella fronte con la posteriore ma il sì quella frontale che ben da 8 megapixel mentre sul retro abbiamo quella vediamo qui meglio quella da 13 megapixel con sensore sony e ovviamente il flash a led quindi insomma caratteristiche molto interessanti per questo motivo diciamo l'app della fotocamera è ricca di funzionalità interessante la modalità bellezza qui vediamo da questa parte che c'è uno slider che praticamente quando ci facciamo un amato ritratto permette di andare a intensificare una specie di filtro che va a migliorare le nostre fattezze tipo togliere impurità della pelle oppure possiamo poi andare a rifinire i lineamenti il nostro viso per rendere un po più dolci in fotografia lo smartphone dicevamo ha caratteristiche quasi da top di gamma tranne un piccolo particolare il processore non è tra i più potenti chipset ad esempio di qualcomm che troviamo su altri top di gamma di altri costruttori e huawei ha preferito giocare in casa con la sua diciamo divisione ai silicon che produce appunto semiconduttori e processori in questo caso è un processore si quad core comunque con prestazioni leggermente inferiori rispetto appunto i top di gamma di quest'anno comunque con prestazioni allineate a quelli che potrebbero essere magari top di gamma dello scorso anno in realtà come vediamo appunto l'interfaccia è abbastanza fluida ogni tanto quando abbiamo tante applicazioni aperte abbiamo qualche rallentamento qui vediamo il browser abbiamo fatto delle prove con chrome in particolare questo ovviamente è il nostro sito web vediamo appunto come lo scrolling è di solito abbastanza veloce ogni tanto abbiamo un piccolo lag tra la nostra praticamente tocco dello schermo e la risposta del dispositivo comunque appunto vediamo come in realtà siamo su livelli abbastanza decenti intesi come esperienza di utilizzo questo è un sito comunque abbastanza ricco di immagini possiamo andare a provare a vedere ad esempio un altro sito in questo caso siti che hanno in modalità diciamo desktop delle immagini di sfondo il browser comincia a rilancare un pochino di più però in realtà niente che pregiudichi pregiudichi diciamo l'utilizzo di tutti i giorni e anzi insomma non abbiamo riscontrato diciamo particolari problemi da questo punto di vista a parte il browser che comunque un po a seconda dei siti può tentennare un pochino lo smartphone ci ha sembrato abbastanza scattante possibile passare con abbastanza disinvoltura da una applicazione all'altra come vediamo in questo modo dalla fotocamera appunto al browser ritorniamo ritorniamo alla home page tutto abbastanza veloce in realtà anche con i giochi 3d di un certo spessore ne abbiamo provato come al solito Deathrigger 2 e anche impostando la massima qualità del dettaglio sì ogni tanto magari c'è qualche lieve microscatto però nel complesso il gioco rimane assolutamente giocabile e anzi le prestazioni non lasciano troppo invidiare smartphone più costosi in sostanza dunque si tratta di uno smartphone ben costruito con un'interfaccia comunque che migliorata rispetto a quella dei primi Huawei degli scorsi anni e quindi insomma per il prezzo che ha è sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo e appunto con funzioni interessanti come la webcam frontale da 8 megapixel è appunto un prezzo davvero interessante per quello che viene offerto dal telefono grazie a tutti grazie a tutti